Come è venuto questo evento? Diciamo che grande afflusso di pubblico perché Paola Romano è un'artista non soltanto apprezzata come artista ma anche come donna ed è molto amata dai suoi amici e poi abbiamo avuto la fortuna di avere uno spazio nuovo che voleva essere conosciuto poi ci sono per esempio accanto a me persone come Cinzia Morreale che fanno parte degli amici che seguono Paola e ammiratori quindi c'è il doppio ruolo Bravissimo anche il gallerista però il gallerista, il curatore è un insieme di forze che si sono uniti intorno ad un artista perché l'apprezzano come artista ma anche c'è un calore umano quindi sei soddisfatto stasera veramente un evento molto carino complimenti grazie, grazie davvero